Ciao a tutti, sono Nessie e oggi sono qui per aprire due nuove blind bags sul canale queste sono carte pokemon, xy fuoco infernale e questi sono i my little pony queste sono un regalo che è arrivato da pokeshiny e vi lascio il link al suo canale in descrizione è stato davvero gentilissimo e mi ha mandato tantissime cose se non avete visto il video del pacco che mi ha mandato andatelo a vedere perché mi ha mandato tantissime cose allora io direi di aprire queste dei my little pony, la recensione l'ho già fatta quindi le apro, non ho guardato il codice quindi non so quale mi capiterà in caso fosse un doppio lo scambierò allora come al solito c'è, ah ok si vede anche qua ovviamente il pony che c'è abbiamo trovato Sapphire Shores e non ce l'avevo l'avevo regalata alla mia cuginetta piccola che l'ha persa dopo due ore quindi questo è il solito foglio bianco che c'è all'interno vediamo la figure eccola qua, carina allora la conchiglia si vede pochissimo perché è praticamente lo stesso colore del corpo però è molto carina e appunto non ce l'avevo quindi grazie, troppo carina poi, ah e non c'è la checklist quindi non posso farvi vedere i personaggi ora andiamo con le carte eccoci qua, ormai vi sarete abituati alla mia voce roca perché sto facendo tutti i video negli stessi giorni perciò niente questo è il codice se volete usarlo, tanto io non lo utilizzo facciamo il trick diciamo e vediamo chi abbiamo trovato fluetto mi piace sempre tantissimo flabebe pineco carini alcune gialle oddio una holo, grande non ce l'avevo di Gudra stupenda grazie non ce l'avevo questa holo e appunto io non ho più molta fortuna con le carte perciò ormai le compro quelle che mi interessano di ex e basta perché era arrivato a un punto che non trovavo più ex questa è troppo carina, grazie mi piace tantissimo, sono contenta che mi hai trovato una holo ok, quindi queste sono le cosine che mi ha regalato poche shiny alcune delle cose ditemi che cosa ne pensate e se vi piace il pony e noi ci vediamo in un prossimo video vi ricordo di lasciare like, commentare, iscrivervi al mio canale se vi va vi ricordo la mia pagina facebook il mio gruppo facebook blind bags e toys italia e il giveaway sul canale vi mando un bacione e un salutone e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti